Di chiudere vi voglio mostrare una casa per i lettori di oggi e di domani da 1200 metri quadrati con 80.000 volumi sugli scaffali e 700.000 libri consultabili. È stata inaugurata oggi, si tratta della nuova biblioteca di Melso, realizzata a costo zero per l'amministrazione grazie ai 13 milioni di euro in opere stanziati da tangenziale esterna a favore di questo comune. E queste sono proprio le immagini.